Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono un chilometro di coda tra Empoli-Est e Montelupo-Fiorentino in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra-Fiorentina e Montelupo in entrambe le direzioni. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11. Sempre FIPILI oggi, in orario 9.16, sarà chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze. Spostandoci in A11 in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Prato-Ovest e l'allacciamento con l'A1. In A1 rallentamenti tra Aglio e Calenzano-Sesto-Fiorentino in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!